Il sostegno che offre un materasso Tempur è sempre perfettamente adatto a te. Il materiale Tempur è sensibile al peso e alla temperatura del corpo. Non importa quale sia la tua posizione di riposo preferita, il materasso si adatterà sempre al tuo profilo. Non è un caso. I nostri scienziati e ingegneri hanno passato anni a perfezionare Tempur. Un materiale ad alta performance costituito da una complessa rete di cellule viscoelastiche. Ed ecco come funziona. Il grafico mostra l'effetto della temperatura sul comportamento di certe schiume. La curva ci dice come il materiale Tempur sia stato ingegnerizzato in modo da offrire massimo sostegno e comfort intorno ai 23 gradi, o temperatura media di una camera da letto. Quando ti stendi sul materasso, il peso e la temperatura del corpo fanno ammorbidire il materiale viscoelastico e lo senti gentilmente conformarsi al tuo profilo. E quando ti muovi o ti alzi, il materiale diventa più rigido e si espande fino alla sua forma originaria. La risposta è così leggera e delicata che quando ti sdrai ti senti senza peso. È facile dimenticare completamente di essere sdraiati su qualcosa, perché nulla si conforma e adatta come Tempur. Tempur. Quello che senti è leggerezza.